Cos'è che facciamo? Una domanda semplicissima, ovvero facciamo ordine. Ma fare ordine vuol dire partire anche da queste soluzioni. Quante aziende hanno gestione le azioni che riescono a prendere i dati da canelli di frontiera piuttosto che database o informarli e gestire dei processi in modo tale che l'azienda o al reparto possa essere messo nelle condizioni di lavorare e digitalizzare i processi? Ma soprattutto perché la digitalizzazione può portare a dei benefici in termini di velocità operativa, probabilità dei dati condivisi nel mercato, quindi l'anno scorso il 40% degli investimenti dell'azienda italiana è stato finalizzato dematerializzare il proprio archivio. Quante altre cose hanno fatto degli studi molto approfonditi prendendo un campione di 100 aziende, sono arrivati a determinare un valore di 2,50 euro al documento per le piccole e medie imprese, fino a 5 euro al documento per le grandi in questo scenario, ho la possibilità di ricercare il documento per fascicolo, quindi tutto quello che è contenuto in quella pratica e in quel fascicolo, piuttosto che per passare a tirami fuori la fattura del gommista, non mi ricordo chi è il gommista, scrivo gomma, mi tira fuori dalla cancelleria, a cambio gomma del dirigente piuttosto che della gente. Noi non vogliamo arrivare prima a nessuna gara, però per essere ricordati dovremmo imparare ad essere protagonisti del campamento.